Berlusconi deve avere tutto quello che gli serve C'ha bisogno do sconto sui preservativi A me piacerebbe un giorno che ci fosse semplicemente un pentapartito Che si occupa dei lavoratori su Fortnite E che fanno scegliere a Berlusconi cazzo Capito? Regà, che vedevo di Che vedevo di Ed è quello qua! Lo vedete? C'è tutto l'abito! C'è tutto l'abito! C'è tutto l'abito! È un pensiero... Andiamo a funghi Siamo anche un po' rotto i coglioni Porca puttana! Ma non è possibile! Non è possibile! È impossibile! È impossibile! Non è possibile! Non è possibile! Era un partito dove c'è un rappresentante Degli spiriti del fuoco! Vabbè questo è un meme che mi ha fatto tantissimo ridere Brode Il bro non sapeva che su Fortnite si muore Hanno tolto l'albero di Natale Se c'era un giovane al governo Non succedeva questo L'Italia va in merda! Non è colpa di Obama C'è colpa dell'evasione fiscale Io ne parlo ogni giorno Ipoteticamente Fortnite è un posto molto pericoloso Sia per i più piccoli E sia per i più grandi Su Fortnite si muore cazzo! Ma senza cattiveria eh! Per farvi capire come vorrei io che fosse Il nostro pianeta Terra C'è un rappresentante di destra C'è un rappresentante di sinistra E il ciccio che è al governo E il ciccio che è allenato Non salsiasmo